Mi piace il GGB perché riflette il clima del Barbarigo. È come se fosse una grande famiglia in un certo senso, perché ci conosciamo tutti e cosa, diciamo, un'aggiunta a questo clima familiare è il GGB, in cui possiamo dare del tuo ai professori e siamo qui come amici e non come professore dietro la cattedra e all'unni e facciamo delle attività insieme che possono essere anche su base religiosa, ma non sono oppressive in un certo senso come potrebbero pensare altre ragazze che non vengono da scuole cattoliche, è divertente. Si crea un clima particolare che poi si riflette anche nel modo in cui studio. Se io sono sereno, studio meglio e rendo meglio a scuola. Il GGB è nato cinque anni fa, questo ormai è il quinto anno. Il bello del GGB è che le persone poi vorrebbero rimanere. Anche quest'anno abbiamo università che usciti ormai da due anni che con gioia rimangono collegati al Barbarigo e si sentono a casa al Barbarigo. Il GGB è un gruppo del triennio e praticamente mangiamo insieme con i ragazzi del triennio e si discute riguardo un determinato argomento e vengono fatte infatti varie attività. Mi è molto piaciuto perché anche ho conosciuto altre persone, sono riuscito a parlare con altre persone che non conoscevo. In classe c'è un rapporto più serio magari. Ad esempio al GGB anche diamo del tuo ai professori. Il GGB nasce dal desiderio di alcuni professori di far vivere ai ragazzi la scuola in un modo del tutto speciale, come casa, come famiglia e di avere la possibilità di stare insieme sia per divertirsi ma anche per affrontare alcune tematiche, alcuni aspetti di particolare interesse per i ragazzi. Intanto si crea un ottimo rapporto con i professori. Io penso che sia fondamentale per aiutare i ragazzi a capire comunque in che ambiente si trovano.